Sono 15 le famiglie che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a Torre del Greco in provincia di Napoli. In seguito alla segnalazione della caduta di Calcinacci, i vigili del fuoco sono intervenuti in via nazionale ed hanno constatato le problematiche condizioni dello stabile. A quel punto insieme ai tecnici del comune hanno ordinato lo sgombero della palazzina insieme all'inibizione di cinque attività commerciali che erano di fronte al palazzo. Ad avvertire i vigili del fuoco un residente preoccupato per lo stato dell'immobile per il quale già erano stati programmati dei lavori di ristrutturazione non ancora iniziati e che avrebbero permesso ai condomini di non lasciare le proprie case. In tempi rapidi sono stati realizzati puntellamenti ed un ponteggio per evitare eventuali cadute di pietre. La preoccupazione resta alta per i residenti soprattutto dopo la strage sfiorata lo scorso luglio quando crollò un palazzo in corso Umberto I causando il ferimento di tre persone ed un centinaio di sfollati.